Il giorno dopo la vittoria di Udine, tutti in campo per preparare, sappiamo che fino al derby ci sarà una gara ogni tre giorni, quindi subito in campo per preparare la sfida di domenica pomeriggio a Milano contro il Cesena. Ovviamente, giorno dopo partita, due gruppi separati, quelli che hanno giocato, compresi Luscio e Milito, hanno effettuato del lavoro di recupero frammentandosi tra un po' di attività aerobica, un po' di massaggi, un po' di piscina, insomma, il menù è quello di sempre. Per tutti gli altri, invece, 70 minuti di lavoro piuttosto intenso. Gruppo questo, arricchito dalla presenza di alcuni ragazzi della primavera, addirittura il portiere degli allievi Ivuzic, poi il difensore Mbaie, Duncan, centrocampista, e l'attaccante Marco Livaja, che ormai fa parte integralmente, l'abbiamo visto anche convocato per l'ultima partita. C'è qualcuno che ha svolto ulteriore lavoro, non con il gruppo, parliamo di chi ha dovuto saltare, per esempio, l'ultima trasferta, Zanetti e Kivu. Allora vediamo nel dettaglio che cosa hanno effettuato. Per Zanetti una seduta individuale, parzialmente in campo, parzialmente in palestra. Samole, invece, giornata di lavoro, di recupero, ovviamente personalizzata integralmente in campo, quindi, l'aveva detto Andrea Starmaccioni in conferenza, sta recuperando a tempi record. Kivu e Castagnossi, invece, terapie, fisioterapie e lavoro specifico in palestra. Di Kivu sappiamo il problema alla caviglia. Insomma, una giornata di lavoro, di preparazione, a gruppi separati. Domani due gruppi si ricompatteranno e inizierà il mister a preparare, con l'allenamento di domani e la rifinitura di sabato, l'impegno di domenica contro il Cesena. Per quanto riguarda, invece, le altre notizie sulla giornata di casa Inter, compresa l'intervista esclusiva a ospite della prima serata con Eduardo Calderà, il grande campione nerazzurro di qualche anno fa, Ruben Sosa, Beh, insomma, l'invito è quello di seguire gli appuntamenti con i notiziari su Inter Channel e seguire appunto Inter Channel. Oppure, vediamo un'altra opzione, iscrivetevi per avere qualche possibilità in più di gustare i prodotti di casa Inter e iscrivetevi nella sezione Inter Channel su YouTube.